Il piano delle vaccinazioni continua a fare acqua. Già dei primi giorni di gennaio avevamo denunciato le lacune della campagna di vaccinazione covid-19 della regione Abruzzo e a quasi due mesi dall'inizio la regione Abruzzo non è ancora riuscita a trovare una strategia che permetta di individuare con esattezza all'interno delle categorie che hanno la priorità quali siano i lavoratori da vaccinare. Questa la denuncia della Filcams CGL che chiede ora risposte certe ed immediate. Intanto noi abbiamo registrato una serie di irregolarità diciamo così fino ad oggi perché all'interno delle prime categorie prioritarie cioè quelle del personale sanitario non erano stati inseriti personale degli appalti poi c'è stato un procedere come dire non irregolare nel senso che gli addetti alle pulizie ad esempio sono stati inseriti quelli del portierato sono stati inseriti ma tanti altri lavoratori sono fuori quelli del CUP per esempio non sono stati inseriti e non sono stati ancora vaccinati su Pescara e su Chieti sono stati vaccinati per esempio su Teramo la vigilanza. Ieri c'è arrivata notizia che sono stati vaccinati quelli di Chieti però c'è un procedere a spanne non c'è un coordinamento e soprattutto non si capisce chi effettivamente deve essere vaccinato. Noi ovviamente stiamo parlando di lavoratori che lavorano all'interno dei presidi sanitari per cui hanno contatti con il personale oppure preparano i pasti quelli delle mense fanno le pulizie quindi rischiano di contagiarsi e di contagiare a loro volta qualora risultassero positivi. Allo stesso tempo adesso succede che sta per partire il piano di vaccinazione per le scuole e ricapita esattamente lo stesso problema perché non sono inserite le categorie dei lavoratori in appalto ma anche qui abbiamo pulizia abbiamo soprattutto le mense che sono molto importanti e il personale delle mense se non viene vaccinato rischia di tutto questo rischia di vanificare poi il piano di vaccinazione l'efficacia del piano di vaccinazione. Certo noi diciamo sempre che i posti di lavoro sono fatti non soltanto non ci sono dentro i posti di lavoro non ci sono soltanto i dipendenti degli enti appaltanti ci sono tanti tipi di lavoratori e tutti i lavoratori devono avere lo stesso trattamento gli stessi diritti voglio dire tra l'altro da questo punto di vista nel senso che devono essere vaccinati perché il virus diciamo sempre non guarda in faccia a nessuno e contagia tutti i lavoratori dello stesso modo